Ed eccoci al torneo di Just Dance 4 a Mondovì, andiamo a conoscere i vincitori. Allora, siamo qui con la terza classificata di Just Dance 4, che si chiama? Valentina Matarese. Allora, sei contenta di aver vinto questa splendida medaglia? Sì, contentissima. Allora, siamo qui con? Giulia Pappalardo. Che è la seconda classificata del torneo. Allora, non hai vinto il primo posto per pochissimo? Sì, vabbè, ma intanto l'ha vinto mia sorella. Appunto, primo posto, secondo posto ha due sorelle, ma c'è proprio il sangue di una danzatrice nella vostra famiglia. Sì, ci piace ballare. Vi piace, ma già avevate il gioco, l'avevate già provata? Ce l'avevamo a casa, sì. Sei contenta? Sì. E l'altra sorella, che si chiama? Cristina Pappalardo. Che ha vinto il primo premio, ecco qui il trofeo. Allora, com'è stata? È stato bellissimo, mi sono divertita tantissimo. Grazie. Te l'aspettavi di vincere? No. È bello che non voleva neanche partecipare perché aveva paura di partire. Invece sei arrivata e hai vinto addirittura il primo premio, il trofeo. Contenta? Lo mostrerai? Molto, sì. Parteciperai di nuovo al torneo? Eh dai, magari. Va bene, ti aspettiamo. Ciao Cristina. Ciao.